Ciao a tutti, rieccoci qui con Contrast Finalmente cerchiamo di risolvere gli ultimi problemi per cercare di vedere lo spettacolo del grande Vincenzo Prima di proseguire, ecco, stavo cercando di controllare un po' in giro Qui c'è un'altra sfera Purtroppo durante il secondo atto ne ho persa una che sono riuscito a trovare Qui c'è un'altra Ma sì, a questo punto esplorerei un attimino prima di andare avanti con Didi Così, visto che sono soltanto quattro le sfere, magari le troviamo tutte Ecco Grande Vincenzo Sempre se tutto va bene Qua ogni volta si rompe qualcosa Dunque, dunque Sedi qua Ah, possiamo andare Un faro gigante Facciamo prima un giro di ricognizione Non si può entrare E di qua non si può andare Perfetto, quindi Provo ancora un attimino a vedere se dall'ingresso principale si può fare qualcosa Se no tornerà indietro No, è chiuso E di qua Va bene Chissà magari ci dovremmo andare dopo Allora, proseguiamo di qua Mi sembra che Didi l'avevamo lasciata da queste parti Eccola lì Mi spiace, ti lascio ancora un attimo lì perché Devo controllare di aver preso tutto Sì, qui siamo andati prima Passiamo dal vicolo Magari Qualcosa è sfuggito No Visto che queste sfere sono molto richieste Eccola lì, un'altra Sì, poi qui c'è il nulla Vediamo un po' cosa attiviamo Forse, forse No Ok Tornano un attimo indietro, per favore No Allora Non ti castrare, non ti castrare Sì Non pensavo di farcela Va bene, ne abbiamo prese tre per adesso Non ne vedo altre, quindi Spero che l'ultima sia qui dentro Ah no Eh sì Era quella più in vista di tutte Occhi a guzzi, insomma Oh no Sì 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 Bene Tanto le sfere Ah, c'è quest'altra Palla di cannone da spostare Intanto attiviamo questo marchigegno Dunque, dunque Attiviamo Ah, perfetto Sì, dobbiamo andare lì su quel balcone, però Quale sarà la strada migliore? Eh, forse Questa roba qui posso metterla No, così non ce la facciamo Neanche No, così non salteremo mai di là No, con questo affare messo così Con quest'altro Questi anelli Forse questi Perché possiamo saltare e passare attraverso le ombre più sottili Provegli Certo che però se ci dobbiamo portare questa dietro Cambia tutto perché non possiamo saltare Allora Bene Eh, è fatta Forse possiamo aprire la porta da qui No, non aziona niente Eh Possiamo aprire la porta così c'è la scorciatoia Eh, questo è uno di quei Marchi ingegni dove si mette la La palla di cannone Solo che è nell'altra stanza Quindi Ah, ecco E quindi ho fatto tutto il giro Per niente Va bene Allora Da dove parte Ah, ma non posso risalire di qua Quindi devo portarmi per forza la palla No, facendo tutto il giro Eh sì Qui non la posso spostare Ah, forse posso entrare nell'ombra però Dove entro? Eh no, ma questa palla la devo mettere dall'alto di là Buono che Trasferisco la palla Qui nell'ombra E poi girando tutti quei marchi ingegni lì Eh, lì la spinge ma Ecco Devo fare in modo che venga Spostata Ah, ecco Questo movimento è l'ideale Devo spostarla solo più in qua Sì Sempre se non rotola via Ah, facciamo in fretta Ecco Non è che Ti lascio qui Non è Niente Devo spostare di nuovo tutto Vediamo così ma Mi sa che questo scalino non possiamo farlo Forse sì? No Con un po' di rincorsa neanche Niente, niente da fare Vediamo ancora Forse l'ho abbassato di un millimetro Ce la faccio adesso? Oh Stai lì Stai lì Stai lì Stai lì Oh Adesso Eh, devo per forza tornare di là Facciamo il giro No Comunque Com'è che l'ho fatto? No Era così più o meno Uno, due E tre Bene E allora va qua dentro Finalmente Vediamo cos'è che abbiamo sbloccato E qua possiamo aprire adesso o no? Eh, sì Quindi si è attivato Quindi si è attivato Tutto questo Stam Baradà Dovremmo andare Verso quella finestra Presumo Da dove partiamo? No No Rimaniamo schiacciati Sì Bene Bene Questa solar machine Qui possiamo interagire Poi Cos'altro c'è? Bene Bene Non c'è niente E allora Interagiamo con quella Quella cosa lì Ah, di qua c'è però c'è una cosa Va bene Abbiamo raccolto un altro oggetto Adesso Fantastico Dobbiamo arrivare fino A quel pulsante Di reset Non so perché Ma la vedo dura qua Forse è così Sì Quindi Entriamo lì Eh, certo Un gioco da ragazza Adesso Bene Sì Qui forse con il super salto Possiamo farcela Qui Stessa cosa Però l'ultimo Fatta L'obiettivo è sempre entra nel laboratorio Ma Non è stato che possiamo passare Di qua C'è il signore che sta pulendo Meglio non disturbarlo Non c'è niente Ok Proviamo Scusi Non è che ci da Un passaggio No Calma eh Non si arrabbi Sì Grazie Grazie Ah Finalmente Abbiamo sbloccato Una scorciatoia Almeno Una Prima Prima non ci siamo stati Dove essere un'altra Stanza Per andare avanti Bene Allora Possiamo anche salire Però Vorrei controllare Prima di qua Che cosa c'è Ah Siamo Tornati No Questa è un'altra stanza Ancora Ah Lì dentro è entrata La ragazzina Allora Magari è meglio controllare Cosa c'era Un'altra stanza Di qua Ah no Ma qui siamo sempre All'inizio Qui si è alzato Tutto questo Marchingegno Quindi possiamo andare Solo di là Bene Direi di Entrare qua dentro Perfetto C'è qualcosa da prendere qua No Perché le sfere luminose Le dovremmo aver raccolte tutte Sono rimasti tutti questi Oggetti collezionabili What are you doing here Who are you How did you get in Through the big clock You went through the clockwork How Who are you with It's a puzzle Right It's meant to keep strangers out It's a very good puzzle Not good enough Apparently But I'm not a stranger I'm Didi Di Malancaya Oh Your mother put you up to this Didn't she She thinks I'm doing my homework I want to meet you I didn't ask for a child All right You didn't want a child What would I do with one I'm a busy man My apparatuses are precise They take months to hone How would I have the time That is what I told her I'm sorry I travel I'm going on tour for six months Budapest Istanbul Calcutta Shanghai I dine out With dukes And gangsters But But I could help you With your apparatuses I'm good with puzzles You could train me I won't be any trouble You broke my left handed induction coil That took me a week I'm sorry I told your mother all of this Years ago What is her phone number Okay See This is what I'm talking about This is what I can't have Your mother cried every week You're better off with Kat A little girl A little girl Should be with her mother Okay All right Do you want to come To see my show No Well Here's two tickets In case you change your mind Hey Let's get Kat on the phone Hmm Ok Quindi Siamo riusciti a far piangere Didi E Direi che Può bastare così per Questo episodio Spero che il video vi sia piaciuto E Ci vediamo Con il prossimo video di Contrast Ciao a tutti